Ci hanno accusato di voler aiutare gli evasori, ci hanno accusato di voler allentare le maglie del fisco, ci hanno accusato di voler nascondere dei condoni immaginari. Non argomenterò in risposta a queste accuse con le mie idee perché, ringraziando Dio a smentire queste accuse, ci sono i numeri che, a differenza delle idee, non sono opinabili. I numeri ci dicono che il 2023 è stato un anno record nella lotta all'evasione fiscale, con un'attività di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha portato nelle casse dello Stato ben 24,7 miliardi, cioè 4,5 miliardi in più rispetto all'anno precedente, una cifra mai raggiunta nella storia di questa nazione. A questi vanno aggiunti 6,7 miliardi di euro che sono frutto dell'attività che sempre l'Agenzia delle Entrate ha svolto per conto di altri enti, IMSI, INA, il Ministeri, Prefetture e Comune. Sommando queste due cifre si arriva alla cifra record di 31 miliardi di euro.